Soddisfazione reciproca per Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il colloquio ufficiale di martedì a Mosca. I due leader hanno firmato due dichiarazioni programmatiche congiunte. Le relazioni russo-cinesi sono al massimo livello di sviluppo nella storia, ha commentato Putin. Le relazioni russo-cinesi sono al massimo livello di sviluppo in energetica. Putin è pronta a sostenere le aziende cinesi che potrebbero rimpiazzare quelle occidentali che hanno lasciato la Russia.